Adesso è il momento di reagire contro questo Stato, contro questo governo anticostituzionale. Smettiamola di pagare il pizzo di Stato, incrociamo le braccia, perché il miglior alleato del ladro è chi viene derubato. Quindi diciamo basta, colpiamo i loro interessi e ridiamo dignità a questo Paese e a noi stessi. Noi siamo quel popolo obbligato a pagare tasse su tasse, costretto tra ricatti, suicidi, disoccupazione e burocrazia. Grazie a tutti.